Preghiera della famiglia di Giovanni Paolo II Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, Padre, che sei amore e vita, fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi, mediante il tuo Figlio Gesù Cristo, nato da donna, e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, un vero santuario della vita e dell'amore per le generazioni che sempre si rinnovano. Fa che la tua grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e tutte le famiglie del mondo. Fa che l'amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, attraverso le quali a volte passano le nostre famiglie. Fai inoltre, te lo chiediamo, per intercessione della Santa Famiglia di Nazareth, che la Chiesa, in mezzo a tutte le nazioni della terra, possa compiere fruttuosamente la sua missione nella famiglia e mediante la famiglia. Tu che sei la vita, la verità e l'amore, nell'unità del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, per mezzo della volontà del Padre, io confido nel tuo amore materno e consacro al tuo cuore immacolato me stesso e tutti gli uomini di ogni tempo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della Famiglia, prega per noi. San Giovanni Paolo II, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.